Il rapporto con Procida sia di Vera Pescarolo sia di Giuliano Montaldo? Io ho scoperto Procida grazie ai signori Pescarolo, Vera Vergani, meravigliosa signora e attrice che ha accompagnato dal mio grande amico, mia cara esposa e amante Vera e sono venuto tutti gli anni più volte per il piacere di stare con loro, per il piacere di vedere questa bella isola e per il piacere di scoprire l'affettosità di Procida. Perfetto, il rapporto con Procida? E di amore, amore e odio qualche volta ma insomma stando lontani purtroppo sono tanti anni che non veniamo ma ora riprende in pieno l'amore.